Il recupero non solo come buona pratica di riuso, ma come modo per rendere immortali oggetti d'arredo attraverso l'arte. È questo il senso della mostra Design oltre il recupero inaugurata a Pescara. È un progetto nato 25 anni fa precisamente ed è stato pensato per sensibilizzare e incentivare i temi di recupero e di riuso di materia. È un progetto che è nato all'interno di un'azienda che tratta rifiuti, è un impianto di trattamento del gruppo ERA che ha sede in provincia di Pisa, Santa Croce sull'Arno e in questi laboratori vengono organizzati dei workshop con gli studenti dell'Accademia delle Bearti di Firenze, di Bologna, di Ravenna, di Rimini eccetera. Noi abbiamo aderito con grande soddisfazione ed entusiasmo a questa iniziativa che ERA ha voluto fare a Pescara. Qui noi parliamo di opere d'arte, però particolari perché sono opere d'arte recuperate da rifiuti, scarti industriali. Il nome stesso della mostra, SCART, è onomatopeico e ci fa capire che oggi noi dobbiamo pensare ai rifiuti come qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo pensato fino a oggi. tant'è che la sostenibilità ambientale, il cambiamento sono parole, frasi che ripetiamo sempre ma poi vediamo concretamente come si applicano ed è sempre un discorso culturale. Far capire a tutti che il cambiamento deve essere attuato, deve portarci in una dimensione diversa e i rifiuti sono una delle componenti fondamentali della nostra società e poterle recuperare, poterle utilizzare in maniera diversa rispetto al gettarli così semplicemente. È un passo in avanti che noi vogliamo fare, stiamo lavorando per il porta a porta a Pescara, entro la fine dell'anno li introdurremo in tutta la città e avremo fatto quel salto qualitativo necessario per quanto riguarda sia la raccolta che lo smaltimento dei rifiuti. E questo è un passo importante, la cultura insieme alla vita normale di ciascuno di noi per la trasformazione della società.